Le ordini dei robot, scienza tecnologia video Un gruppo di ricercatori canadesi si è chiesto fino a che punto le persone siano disposte a prendere ordini da un robot Una questione tutt'altro che fantascientifica dato che la situazione in cui delle intelligenze artificiali potrebbero essere incaricate di prendere decisioni importanti si pensi nell'ambito medico e in quello militare non sono certe ipotesi remote Il vicino di poltrona manda un SMS durante il film gli spara, cronaca nera Un ex capitano di polizia della Florida è stato arrestato per omicidio dopo una sparatoria in un cinema in cui è rimasto ucciso il 44enne secondo l'accusa il 71enne e la vittima avrebbero iniziato a litigare perché stavano mandando dei messaggi con il cellulare durante i thriller prima del film Avere un coccodrillo peggiora i problemi con il gioco d'azzardo scienza e tecnologia Siete persone che tenderebbero a giocare d'azzardo? Non prendere un coccodrillo come animale domestico Questo consiglio un po' improbabile bisogna ammettere arriva da una ricerca condotta da ricercatori australiani che hanno coinvolto i turisti del Corona Sudwater Cocodrillo Farm nel Queensland ai partecipanti dell'esperimento è stato fatto giocare ad un video bunker simulato da una parte dei coccodrilli coccodrilli Sì 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 Sì